le cose che non dici di yuki 21 capitolo 20 corpi sasuke non lo so cosa hanno smosso in me le parole di reika le ho ascoltate e rimosse all'istante perché lei ora è qui con me nella mia casa e siamo completamente soli ed io non ho voglia di pensare a dove saremo tra qualche mese non riesco nemmeno ancora a rendermi conto di cosa provo per lei quindi il pensiero che tutto questo sia solo una parentesi di vita non mi tange non ne me ne voglio preoccupare rimuovo tutto ciò che le ho appena sentito dire e la guido per i corridoi di questa fredda ed enorme casa supero la camera da letto dei miei e quella di takashi la guido fino a uno dei bagni di questo piano non è il più grande ma è quello che preferisco lo uso sempre solo io quindi è pieno delle mie cose c'è una grossa vasca di acuzzi proprio sotto una finestra dei vetri oscurati uno splendido modello con idromassaggio rege entra timida in bagno ed io le chiudo la porta dietro guarda incuriosita la vasca e controlla ogni mio movimento apro l'acqua cerco nell'armadietto un bagno schiuma che non sia troppo profumato mi basta il suo odore l'acqua lentamente si riempie di schiuma e bolle mentre mi sfilo i pantaloni di dosso mi accorgo che il re ancora ferma in piedi vicino alla porta che c'è le domando osservandola così imbarazzata credo di essere leggermente agitata mi risponde guardando in terra ok io mi arrendo questa ragazza non la capisco proprio senza offesa king ma non mi sembravi così in imbarazzo l'altro giorno in treno con non so quante persone intorno ora che siamo finalmente soli ti spaventa un poco d'acqua l'acqua non mi spaventa sasuke kun è che sì insomma non ti sembra troppo intimo che cavolo mi vedrai anche le tonsille qui a me in realtà viene da ridere a sentirle dire queste cose ma suppongo che comunicarle che tutto mi interessa di lei forché le sue tonsille non sarebbe d'aiuto comunque non cedo al di là che mi sembrava un'idea piuttosto sfiziosa ho davvero bisogno di un buon bagno caldo per rilassarmi quindi termino di spogliarmi ed entro in acqua fa come ti pare allora puoi restare lì se vuoi ma ti avviso ho voglia di rilassarmi il più possibile quindi se ti annoi non è colpa mia a quelle parole reika si avvicina prende la spugna che è appoggiata sul bordo della vasca e inizia a passarmela sulle spalle io chiudo gli occhi e la lascio fare è una sensazione deliziosa non pensavo potesse essere anche questo un modo piacevole di usare un bagno in due ma immagino che con lei dovrò ripetere alcune delle mie convinzioni reika sa su che sai io ho delle cicatrici sul corpo una è nascosta tra i miei capelli me la sono procurata quando avevo 5 anni ho sentito i miei genitori discutere come sempre ed ho commesso l'errore di uscire dalla mia stanza per andare a controllare dalla loro stanza provenivano delle urla fortissime spaventose ho sbirciato dalla porta e ho solo visto il braccio di mio padre alzarsi in uno scatto d'ira verso il volto di mia madre mi sono spaventata sono corsa via per scendere al piano inferiore non so bene cosa volevo fare forse arrivare al telefono fatto sta che sono caduto giù per le scale spaccandomi la testa sai la cosa buffa qual è che quella sera in ospedale mia madre raccontò di essere caduta giù per le scale di casa con me in braccio così furono spiegati anche i suoi lividi poi ne ho un paio sulle braccia e una brutta sul polso quelle sulle braccia sono il segno indelebile dell'affetto che max ha notato per me quella sul polso è solo colpa mia però quel segno non lo odio perché mi ricorda l'affetto che ho per il mio irokun poi ci sono stati lividi che da qualche mese non ho più e poi un'altra lunga serie di ferite che non vado a delincarti se tu riuscissi a vedere anche solo uno di questi segni io ne morirei di vergogna per questo non posso entrare in acqua con te anche se lo vorrei per questo mi piace stringerti nella penombra penso a tutte queste cose mentre strofino dolcemente la pelle di Sasuke è così bianca è perfetta nessun segno nulla fuori posto Sasuke perché non andiamo a camera tua a fare l'amore glielo sussurro in un orecchio abbracciandolo forte i miei capelli si inumidiscono per colpa dei suoi che sono totalmente bagnati si volta leggermente nella mia direzione mentre io mi perdo in quel nero senza fine che sono i suoi occhi mi fai una richiesta del genere così da nulla e ti vergogni di farti il bagno con me sei proprio strana rei è un no gli chiedo sempre stringendolo a me lui sbuffa e si alza in piedi esce dalla vasca completamente nudo e non si preoccupa minimamente di coprirsi con un asciugamano mi prende per mano camminandomi avanti e usciamo dal bagno non parla più Sasuke e prosegue a passo sicuro verso la sua stanza una volta dentro mi attira a sé iniziando a baciarmi in questa stanza c'è meno luce ed io mi sento più sicura si ferma solo un attimo per dirmi stanotte dormi qui senza attendere alcuna risposta da parte mia che poi anche a voler dire qualcosa è già tanto che riesca ancora a respirare mentre mi tocca così i roshi il locale è pieno di gente come ogni volta un sacco di corpi che si stusciano contro senza vergogna e che non sanno nulla l'uno dell'altro calmino lungo un corridoio con luci psichedeliche per recarmi ad una dark room la sala è completamente buia entro trattenendo il respiro dopo pochissimo alcune mani mi afferrano ed iniziano ad accarezzarmi e toccarmi ovunque le lascio fare vengo spogliato e toccato ovunque leccato perdo ogni contatto con la realtà che è fuori questo luogo di lussuria e perdizione si odono respiri e spezzati e preservativi che vengono scartati entro dentro qualcuno e qualcun altro entra dentro di me fa male solo all'inizio ma tutto l'alcol ingerito prima aiuta ti soccorre sempre l'alcol in queste situazioni impedisce di pensare liberamente allo schifo e a quanto tutto questo non sia davvero quello che vuoi ma quello che faccio qui non è soddisfare le voglie quello che faccio qui si fa e basta perché è così qualcuno mi bacia in bocca lo scanso subito il fiato gli puzza di fumo odio il fumo quanto reika odia l'alcol reika qui dentro nulla profuma come te nulla è pulito e innocente come te perché questo maledetto cuore mi fa così male reika sasuke fa l'amore come un dio non si risparmia non pensa sulla sé si concede totalmente e si concentra sempre prima sul mio piacere sto imparando a conoscerlo come non avrei mai pensato fino a qualche tempo fa indipendentemente da come io mi muova finiamo sempre viso contro viso non chiudere gli occhi reika mi piacciono i tuoi occhi mentre provi piacere hanno una luce bellissima maledetto kawashima come si fa a resisterti terminato il piacere che è un passo a due ripetuto ben tre volte crolliamo distrutti nella notte quando apro gli occhi nelle tenebre sono circa le due del mattino a svegliarmi è il corpo di sasuke appiccicato al mio e i suoi capelli che mi fanno il solletico così lentamente mi alzo e in silenzio scendo giù in cucina per bere un bicchiere d'acqua ripassando per il salone non posso non osservare con ammirazione lo splendido strumento musicale ehi che fai sasuke richiama la mia attenzione se ne sta in piedi sull'ultimo scalino ad osservarmi niente avevo solo sete guarda me e poi il pianoforte forse è solo la mia immaginazione ma ho come l'impressione di aver visto il suo sguardo diventare più cupo allora mi viene da ridere e lo prendo un poco in giro mentre mi avvicino a lui non sarei mica geloso di un pianoforte spero scema mi sembrava strano su torniamo a letto è tardi domani abbiamo scuola niente scuola domani la saltiamo mi volto quasi scandalizzata il secchione fa sega ecco adesso veremo sicuramente uccisi da un terremoto te l'ho detto no i miei stanno fuori per qualche giorno quindi almeno per domani ne approfittiamo e ci alziamo quando ci pare quando ci pare kawashima mi farò uscire da quel letto prima o poi vero lui sorride e mi volta le spalle con la sua solida e sensuale voce dichiara tutto convinto forse e continua a salire le scale è proprio un bambino viziato però in fondo né io e né lui abbiamo interrogazioni domani quindi perché no takashi non sopporto questi ristoranti di alta classe come li definisce la mamma tutte queste facce serie queste corpi ingessati incompleti di alta sartoria che non hanno nulla di comodo e pratico sasuke ha fatto bene a non venire non che i nostri genitori abbiano insistito per averlo qui ma sicuramente è andata meglio a lui che a me takashi tutto bene caro si mamma non preoccuparti piuttosto cosa stavi dicendo padre nostro padre è sicuramente una delle poche persone in tutto il giappone ad essere severo persino davanti a un buon dessert dicevo che hai vinto tu oggi ho parlato con il consiglio di amministrazione di una delle sedi principali della kawashima industries di tokyo sasuke dopo la laurea potrà dirigere le sedi di shibuya sai bene che dopo quella di kane è praticamente la più importante tutto questo chiaramente se saprà laurearsi a pieni voti come hai fatto tu non riesco a capire perché ha insistito così tanto non l'avrei mica lasciato per strada tuo fratello semplicemente avevo fatto altri progetti per lui sì lo so padre ma mio fratello è troppo orgoglioso per lavorare alle mie dipendenze come volevi tu non è adatto a fare il vice presidente sasuke è uno di quelli che deve prendere le decisioni importanti sarà un ottimo presidente per la sede di shibuya stai tranquillo non ti deluderà mi auro non deluda te takashi in fondo gliene dobbiamo ancora parlare ne sarà entusiasta gliene parlerò io stesso per il compleanno vedrete sasuke vi darà grosse soddisfazioni sarà io avrei comunque preferito una femminuccia vero caro non sopporto quando la mamma mi dice queste cose io non vorrei altri fratelli che lui se solo questi due capissero il potenziale che ha il mio tuto a proposito di femminucce takashi la ragazza che tuo fratello mi ha presentato l'altra volta di preciso chi era mamma sei sempre distratta si chiama reika è una compagna di classe di sasuke le da ripetizioni nelle materie scientifiche segue il progetto delle ibia che ha proposto sasuke mio padre alza la testa curioso e chi sarebbe questa reika ha un cognome mi sembra king o qualcosa del genere non ricordo perché ti interessa padre non conosco nessun king cos'è una straniera di che si occupa suo padre sai nulla della sua famiglia avanti padre che vuoi che ne sappia io comunque è una ragazza carina ed educata dai dratti somatici americani a mamma suona il pianoforte da quanto ho capito andiamo bene ci mancava solo una musicista con una famiglia senza arte né parte takashi vedi di controllare quella testa calda di tuo fratello nella sede di shibuya lavora il padre di una ragazza della ibia una certa naoko mazuda se non erro suo padre è piuttosto influente nel consiglio di amministrazione se tuo fratello ha delle voglie da soddisfare che lo faccia con la persona giusta una straniera ma stiamo scherzando oh caro sei davvero poco elegante quando parli di certe cose puoi anche dire che è davvero disgustoso mamma perché quest'uomo lo è quando parla così come se il mondo fosse solo un grosso affare da gestire la vita sentimentale di sasuke non è affar mio e credo nemmeno tuo ora mi guarda con sfida sicuramente lancerà uno dei suoi colpi bassi lo fa sempre quando cerco di tenerli testa può darsi ma vista la fatica che hai fatto per convincermi che sasuke mi darà meno noie di quante me ne hai date tu in passato takashi credo faresti bene a verificare anche questi suoi atteggiamenti per resto noi kawashima siamo sempre in vista non voglio altri scandali in famiglia non sarò clemente con sasuke come lo sono stato con te sia chiaro questo che bastardo sempre a rinfacciarmi quella maledetta storia torniamo tutti e tre a concentrarci su questo non identificato dolce ma l'appetito mi è passato è vero ho lavorato molto per fare in modo che sasuke abbia un posto di rilevanza nell'azienda di famiglia l'ho fatto principalmente per fargli capire quanto ci tengo a lui e per cercare quindi di risanare il nostro rapporto logoro di gelosia e ingiustizie spero di non dover mettere bocca in nulla che riguardi reika la ragazza non ha colpe nessuno ha colpa se io e mio fratello siamo nati con questo dannato cognome comunque conoscendo sasuke non sarà una storia che andrà avanti ancora per molto lui si stufa presto di tutto e se così non fosse me ne porrò il problema a tempo debito magari anche se non dovrei farò giusto qualche ricerca sulle generalità di reika king forse salta fuori che ha una famiglia ricca sfondata alle spalle così questo razzista che ho davanti non avrà più nulla da dire sulle scelte di mio fratello grazie a tutti